Un'attività di pianificazione che punta a rilanciare l'azienda dei trasporti dell'Aquila, Lama, che punterà a rimettere in sesto un'azienda che negli ultimi anni ha visto erodere il suo capitale sociale con un deficit patrimoniale di quasi 2 milioni di euro. Investimenti nel medio e lungo termine, un nuovo piano industriale e un nuovo piano economico-finanziario, la razionalizzazione delle linee e aggiornamenti tecnologici, oltre all'adozione della nuova normativa sul costo standard del servizio per la quale il Comune dell'Aquila sarà fra i primi in Abruzzo. Abbiamo subito lavorato, abbiamo presentato un piano industriale, come vi ricordate, l'assessore ha fatto fare un PEF simulato, un piano economico-finanziario, e anche il calcolo del costo standard, che da quanto sappiamo è una delle prime volte che si fa a livello italiano, quindi il contratto di servizio verrà rimodulato anche tenendo conto delle risultanze di questi studi che sono stati fatti. Nel frattempo, parallelamente, io come amministratore, in collaborazione con tutta la parte amministrativa di vertice dell'azienda, abbiamo cercato di razionalizzare il più possibile i costi. L'azienda deve essere rinnovata, garantisce l'assessore alla mobilità, anche con l'acquisto di nuovi mezzi, si punta in particolare a quelli elettrici. La situazione, diciamo così drammatica dei conti, la ereditiamo dal passato. Quando noi ci siamo insediati abbiamo trovato un'azienda con quasi 2 milioni di euro di perdite, problemi strutturali seri, parco autobus vetusto, e noi ci siamo subito attivati. Adesso saranno consegnati entro la fine di luglio 4 diesel, e entro la fine dell'anno altri 3 autobus elettrici, altri 6 nel 2026, ce n'è anche un settimo.